Manuel Vescovi, verrà Salvini il 10 dicembre a Firenze per inaugurare un presepe? Sì, il 10 dicembre presso il Palazzo della Regione faremo l'inaugurazione nella nostra sala consigliare di un bellissimo presepe che degli artigiani ci stanno facendo perché vogliamo mantenere le tradizioni e poi faremo una bellissima cena in centro a Firenze sempre con il nostro segretario federale che verrà a Firenze molto legato a questa città perché ci viene spesso. Questa del presepe è per voi soprattutto una lotta simbolica? Sì, è una lotta simbolica perché rappresenta le nostre tradizioni, le nostre tradizioni sono i nostri pensieri, sono il nostro vivere quotidiano e noi dobbiamo difenderle perché nel momento in cui noi difendiamo le nostre tradizioni, i nostri valori abbiamo futuro, nel momento in cui noi invece rinneghiamo il nostro passato è come un albero, nel momento in cui gli togli le radici l'albero muore, nel momento in cui fai la pecora il lupo ti mangia. Ecco, difendiamo i nostri valori indipendentemente la cultura occidentale.